buongiorno ragazzi oggi un video esperimento sul visto che vi sarete accorti che io ho questo difetto di pronuncia della r gucciniana come la chiamo io ho scritto due righe proprio con tante voglio fare la differenza tra la r come la dico io e la r come dovrebbe dirla un normo r dotato ok diciamo così allora io ho scritto il loro un ramaro rosso al semaforo verde mentre una ruota rotolando riordina racchette da cricket ok allora non soffermate non soffermatevi scusate su ciò che ho scritto perché non vuol dire niente ma è solo per la differenza di r adesso provo a leggerla con una r normale allora ecco già partito male il loro una mano un ramaro rosso al semaforo verde mentre tè essi buonanotte una ruota rotolando di ordine inglese di ordina racchette da cricket ok questo è quanto io la r non riesco a farla vibrare per far uscire un suono di una r come come si deve lo faccio tutto di gola praticamente faccio vibrare in in gola il suono della r e quindi mi esce questo suono gutturale questa r gutturale niente tutto qua tutto è tutto qua volevo farvi sentire che non riesco a dirla r però io a me la r che che dico non mi dispiace ormai ce l'ho me la tengo e non mi interessa fare della logopedia per correggermi questo difetto di pronuncia ciao bacio